Il negoziato affronta problemi delicatissimi, c'è di fatto una situazione di guerra sul terreno, quindi bisogna raggiungere un cessate il fuoco, definire l'entità del ritiro delle parti che oggi si stanno combattendo, ragionare su come controllare i confini, discutere dello status futuro delle regioni dell'est dell'Ucraina. Quindi è comprensibile che richieda diversi giorni e non è detto che si concluda positivamente. Quello che è chiaro è che le conclusioni positive dipendono dalla Russia ed è importante che i ministri degli esti europei, in modo unanime, abbiano ribadito questo invito e questo concetto.